Ciao carissimi follower, pochi istanti fa si è verificato un fortissimo terremoto, ma prima di entrare nei dettagli non dimenticate di sostenerci prima iscrivendovi al canale in modo da ricevere tutte le notizie sul terremoto esclusivamente e gratuitamente su nel momento in cui si verifica. E supportaci anche con ammirazione per questo video, poiché stiamo lavorando sodo per tenerti aggiornato con informazioni oneste e utili, e grazie, se un terremoto molto forte ha colpito questa sera, venerdì 30 giugno 2023, stato dell'Indonesia, e questo è intorno alle 8 di sera ora indonesiana, e alle 3 di sera ora italiana, e secondo il Centro Europeo di Sismologia, e secondo informazioni preliminari, l'intensità del tremore dovrebbe essere compreso nell'intervallo di 6 gradi della scala Richter, e si è verificato a una profondità di 85,7 chilometri dalla superficie terrestre e a una distanza di 93 chilometri dalla città di Bantul, in Indonesia, e secondo il dichiarazioni dei cittadini lì, più di 75 messaggi finora nel sito ufficiale, la scossa è stata molto forte ed è durata per molti secondi. I residenti hanno sentito una scossa molto forte, e secondo le dichiarazioni dei cittadini sempre, questo terremoto è molto simile al violento terremoto che ha colpito il paese nel 2006, e speriamo che questo terremoto non abbia causato perdite lì, e qualsiasi altra importante novità di cui vi informeremo in seguito, e alla fine, che possiate stare in pace e buona salute.